In questo tutorial vogliamo dimostrare che l'equazione dell'iperbole riferita agli asintoti xy uguale k si ottiene ruotando l'iperbole equilatera x alla seconda meno y alla seconda uguale alla seconda con una rotazione di centro nell'origine in verso anti-orario e angolo alfa pari a 45 gradi. Rivediamo lo stesso concetto attraverso un'animazione e andiamo a ruotare l'iperbole riferita agli assi x alla seconda meno y alla seconda uguale alla seconda di centro O di angolo 45 gradi e con una rotazione in verso anti-orario. Otteniamo l'iperbole riferita agli asintoti xy uguale k. Per effettuare tale dimostrazione dobbiamo utilizzare le formule che descrivono la rotazione in senso anti-orario di angolo alfa attorno ad un generico punto di coordinate AB. Le formule sono le seguenti. Nel nostro caso il punto AB centro della rotazione risulta essere l'origine 00 e l'angolo alfa risulterà essere pari a 45 gradi e allora in questa formula al posto di AB sostituiamo 00 e al posto di alfa sostituiamo 45 gradi. A partire da questa formula si ottiene x primo uguale x per coseno di 45 gradi meno y seno di 45 gradi e per y primo x seno di 45 gradi più y coseno di 45 gradi. Tenendo presente che il seno e il coseno di 45 gradi sono pari a radice di 2 su 2 sostituendo si ottiene questo nuovo sistema. Dobbiamo ora esplicitare x e y in funzione delle nuove coordinate x primo y primo. Per far questo fisso l'attenzione sulla prima equazione. Porto radice di 2 su 2 x a primo membro ed x primo l'ho portato a secondo membro. Moltiplico ora tutte e due membri per meno 1 ed effetto il minimo comune multiplo che risulta essere pari a 2. Semplifico i due denominatori ed ottengo radice di 2 x uguale 2 x primo più radice di 2 y. Ora vado a dividere tutte e due membri per il coefficiente di x che è pari a radice di 2. In questo modo posso andare a semplificare il coefficiente della x ed ottenere x uguale 2 x primo più radice di 2 y fratto radice di 2. Esplicitato il valore della x lo andiamo a sostituire qui nella seconda equazione. Dopo aver effettuato la sostituzione fissiamo l'attenzione sulla seconda equazione e l'andiamo a semplificare. Come prima cosa semplifico radice di 2 con radice di 2 ed ora effettuo il minimo comune multiplo. Risulta essere pari a 2. Semplifico entrambi i denominatori ed ottengo 2 y primo uguale 2 x primo più 2 radice di 2 y. Ora porto 2 radice di 2 y a primo membro e 2 y primo a secondo membro. Osservo ora che tutti e tre i termini hanno come coefficiente un 2. Quindi posso dividere per 2 tutti e tre i termini ed ottenere un'equazione semplificata y primo uguale x primo più radice di 2 y. Porto ora radice di 2 y a primo membro e y primo a secondo membro. Moltiplico tutte e due membri per meno 1 ed ora divido tutte e due membri per il coefficiente di y che risulta essere pari a radice di 2. In questo modo posso semplificare radice di 2 con radice di 2 ed ottenere y uguale meno x primo più y primo fratto radice di 2. Una volta che ho esplicitato il valore di y in funzione di x primo ed y primo, torno a questo passaggio e al posto di y sostituisco questa quantità. Osservo ora che x risulta essere espresso in funzione di x primo ed y primo. Come prima cosa semplifico radice di 2 con radice di 2 e poi vado a sommare 2x primo con meno x primo. In questo modo ottengo che x risulta essere uguale ad x primo più y primo fratto radice di 2 ed y primo risulta essere uguale a meno x primo più y primo fratto radice di 2. Una volta che ho esplicitato x ed y in funzione di x primo ed y primo vado a sostituire nell'equazione dell'iperbole equilatera x alla seconda meno y alla seconda uguale alla seconda. Ossia al posto di questa x sostituisco questa quantità e al posto della y sostituisco questa quantità. Ottengo un'equazione in x primo ed y primo che adesso vado a semplificare. Come prima cosa dovrò svolgere questo quadrato di binomio e questo quadrato di binomio. Per quanto riguarda la prima parte ho sviluppato il quadrato del primo, il doppio prodotto e il quadrato del secondo e radice di 2 alla seconda risulta essere pari a 2. In maniera del tutta analoga ho sviluppato il secondo quadrato, x primo quadro meno 2x primo y primo più y primo quadro fratto 2. Effettuo ora il minimo comune multiplo. Risulta essere pari a 2. Ed ora semplifico x primo quadro con meno x primo quadro, y primo quadro con meno y primo quadro. Quello che resta è 2x primo y primo più 2x primo y primo fratto 2. Sommo ora questi due termini ed ottengo 4x primo y primo fratto 2. Semplifico ora 4 con 2 ed ottengo 2x primo y primo uguale alla seconda. Divido infine tutte e due membri per 2 ottenendo x primo y primo uguale alla seconda fratto 2. Se ora pongo alla seconda fratto 2 uguale k, ottengo x primo y primo uguale k. E questa risulta essere l'equazione dell'iperbole riferita ai propri asintoti.